O paghi l'affitto, o paghi le bollette, o mangi, oppure poi sono le tasse. Una pensione che non basta pagare l'affitto, un provvedimento di sfratto datato 16 settembre e nessun posto dove andare. È la storia di Giulio Coniglio, 78 anni, residente a Preganziol, raccontata ai microfoni di Focus DG, trasmissione condotta dal direttore Luigi Bacialli. A stretto giro avrà lo sfratto esecutivo decretato dal giudice e questo sfratto esecutivo lo metterà in mezzo alla strada se noi gli troviamo un locale che può essere un monolocale. Una vita di lavoro saltuario negli alberghi di Venezia, l'occasione di trasferirsi a Bologna per dirigere un prestigioso hotel, poi la professione di tecnico informatico. Tutti impieghi che però non gli hanno permesso di versare i contributi necessari per avere una pensione dignitosa. Problemi di salute e difficoltà motori non hanno dato la possibilità a Giulio di continuare a lavorare. Fare la richiesta per avere un assegno sociale, quello che si chiama adesso pensione sociale. Che cosa sono? 500 euro? Sì, però io ho avuto questo vantaggio di aver avuto 3, 15 anni, più di 15 anni, lavoravano di 5 in 5 dell'Inps, per cui ho cominciato subito a percepire, adesso diciamo sono ad oggi 735 euro. L'appello dell'amico Valdo Tamantini di Preganziol, che dal momento in cui ha conosciuto la sua storia, si è attivato per cercare una soluzione abitativa al 78enne. Io mi sono sentito in dovere, perché non mi davo tranquillità su questo se non facevo qualcosa. L'appello di Valdo è quello di trovare una sistemazione modesta per il signor Giulio per il tempo necessario all'assegnazione di un alloggio Ater. La paura è quella di dover passare un autunno e un inverno in strada dopo lo sfratto. Intanto la problematica portata anche alla neo-amministrazione di Preganziol targata a Stocco ha fatto sapere che contribuirà con dei sussidi. Diamo una sua mail, Tamantini, la diciamo perché non facciamo. La mail è cognome e nome, Tamantini Valdo, valdo con la V normale, come cos'è. Giulio ha bisogno di essere aiutato, non può essere abbandonato.